Ciao e bentorni sul canale! Ho 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 Allora Oh povero Babbo Natale Allora intanto dobbiamo far vedere lo sculpt Allora intanto togliamo lo sculpt lentamente questo lentamente lo distrugge volevo far vedere quanto è bello scolpito così Eh già Aspetta che devo andare a recuperare un postoletto perché non abbiamo niente di depositarlo Vediamo se riesco a farlo preciso, perfetto Non riuscirei mai a farlo preciso, perfetto E io invece ci riesco Non ce la fai E invece ci sono riuscita Ah abbastanza Assaggiamo il caccio con il cioccolato Vediamo anche l'interno del cioccolato E questo è molto bello Ci aspettiamo una sorpresa natalizia Giustamente E' bello E' buono Allora cosa abbiamo trovato Carissima Sara Aspetta E' natalizio Già ve lo dico Lo vedo da qua Vabbè quelle sono le cose Qua c'è Una specie di checklist E cioè Dei babbo No Dei personaggi natalizi Abbiamo un omino di pan di zenzero Vedo Un babbo natale Una renna E secondo me Abbiamo trovato Uno spettacolare Uno spettacolare Veramente carino Anche perché Le sorpresine Sono proporzionate Anche un po' Al costo Questo costa un po' Più di un ovetto Quindi la sorpresina Tende a essere Un pochettino più Ricca Da un certo punto di vista Giusto? Ciao E' bentornato sul canale Ma che è bentornato sul canale Abbiamo riattivato Eravamo in pausa Per montare la sorpresina Lei si ha pensato Avessimo finito il video No Quelli non si attaccano Si mettono dentro Si mettono sull'albero No Aspetta No spieghiamo Questa è la sorpresa Un bellissimo babbo natale Con il suo sacchetto All'interno del sacchetto Si mettono delle cose Di Di carta Delle sorpresine Che sono Queste qua Quindi Falle vedere appena puoi Si le stacco Poi cosa succede? Si può staccare l'albero Tenerlo a parte E attaccare quelle cose Sull'albero Quindi c'è lui che Come se stesse attaccando Le cose sull'albero Vedete? Mentre lei le stacca Poi ve le fa vedere Vi faccio vedere come Sarebbe Qui abbiamo due gatte pazze Che si arrampicano Sulle tenden Vedete? Lui attacca le cose Sull'albero Ed è così Se no Lo tenete in posizione classica Queste sono le cosine Candele E si mettono all'interno Del sacco E le porta in giro In questa maniera Diciamo che secondo me Passoncini di zucchero Che adesso io ho unito A cuore Diciamo che la cosa migliore E una pallina di Natale Da fare Secondo me è quello Di tenerlo così In modo che non si perdano Il rumore che sentite Sono le gatte Che stanno facendo danni Guardano fuori dalla finestra Vedono gli uccellini E fanno danni Noi che ho visto La cucitura di Rubini Facendo Ah perché ha avuto Un piccolo intervento Allora Questa è la sorpresina Di questo Babbo Natale Quindi un Babbo Natale Forse avremmo preferito L'omino di pan di zenzero Gatte Stiamo facendo un video Hanno strappato la prima Stiamo facendo un video Per favore Lì c'è anche una cimice Vabbè Vi ricordo Tutte cose che Voi interessano Esatto Vi ricordo di iscrivervi al canale Mettere un like Condividere, commentare Schiacciare la campanella Per esagerare su tutti i video E come sempre Vi saluto e vi ci vediamo Al prossimo video Ciao